Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione delle 13.30 del notiziario di AM Eterni Television che apriamo con un fatto di cronaca. Picchiava continuamente la moglie e i figli ma è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione dal GIP di Terni. Si tratta di un 48enne rumeno. Il servizio. È stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione il 48enne rumeno che massacrava di botte la moglie, una cinquantenne ternana e due figli minorenni. I fatti risalgono allo scorso 24 dicembre quando il 48enne aveva aspettato che la moglie rientrasse dal lavoro per poi lamentarsi, come sempre, del disordine in casa, passando velocemente dalle parole ai fatti e colpendo con violenza la donna con un pugno alle costole, rompendogli le confratture giudicabili guaribili in 30 giorni. Non contento, l'uomo se l'era presa anche con i figli, colpendo il più grande di 16 anni con un bicchiere di vetro e poi con un pugno in faccia. L'allarme del più piccolo ha allertato la polizia che ha immobilizzato e condotto l'uomo in questura per poi tradurlo nel carcere di Sabbione dove è stato trattenuto per tutta la durata del processo. Durante la causa è emerso che i maltrattamenti erano iniziati pochi anni dopo il matrimonio e la donna aveva anche querelato il marito, salvo poi ritirare la denuncia sperando in un cambiamento da parte dell'uomo. Ma così non è stato. Minacce di morte con coltello alla gola, con la pistola una volta, anche con l'acido nel caso in cui lei avesse voluto separarsi. Esplosioni violente di rabbia, minacce fisiche, senza parlare dei continui abusi psicologici per anni, fino alla scorsa vigilia di Natale. L'uomo ora non solo dovrà scontare la pena detentiva, ma dovrà anche pagare le spese legali e il risarcimento della moglie che si è costituita a parte civile. E' finito agli arresti domiciliari per stalking un trentenne di Narni che aveva reso impossibile la vita della sua ex ragazza di 24 anni, arrivando anche a picchiare un suo amico di servizio. E' finito ai domiciliari un trentenne di Narni con l'accusa di atti persecutori con cui aveva terrorizzato l'ex fidanzata, una 24enne residente sempre a Narni, ma di origini straniere. E' sempre la solita storia, i primi mesi della relazione è andato tutto bene, poi pian piano hanno iniziato a vedersi le crepe e fortunatamente la 24enne coglie tutti i segnali di pericolo e decide di lasciare l'uomo lo scorso marzo. Ma la parola fine è ancora lontana, inizia anzi un incubo perché lui non ha alcuna intenzione di farsi lasciare e basta, ma comincia a tempestarla di chiamate e messaggi a ogni ora del giorno e della notte. Ma lei è preparata, sa che gli stalker vanno ignorati e così fa. Davanti al silenzio della giovane il trentenne decide che il telefono è inutile, ma non vuole saperne di mollare il colpo. Quindi iniziano gli appostamenti sotto casa di lei o sotto il suo posto di lavoro, i pedinamenti per accertarsi che non frequenti altri ragazzi. Una situazione che va peggiorando di giorno in giorno e che rende impossibile la vita della 24enne, ormai spaventata anche all'idea di uscire di casa da sola. Proprio per questo ha chiesto aiuto a un amico fidato, un ragazzo di 27 anni che l'ha accompagnata fino alla porta di casa. Lì però i timori della giovane hanno preso in vita. Ad attenderla c'era il suo ex che non ha perso tempo e davanti a quello che credeva un potenziale rivale in amore ha iniziato a massacrarlo di botte. È la goccia che fa traboccare il vaso e la 24enne decide finalmente di denunciare l'uomo, raccontando tutti gli episodi di stalking nel dettaglio. Gli investigatori dell'arma ricostruiscono il tutto, avvalendosi anche di alcune testimonianze. Emerge inoltre che il trentenne ha precedenti specifici. Gli vengono applicati i domiciliari e la misura del braccialetto elettronico. La 24enne può finalmente uscire dall'incubo. Trova un vetro della propria auto rotto e inizia a dare in escandescenze prendendosela con i vicini di casa. E poco dopo la situazione è anche degenerata, sfociando in una colluttazione vera e propria. È quindi scattato l'allarme nella zona di Santa Maria degli Angeli presso Assisi, luogo di questa rissa. Alla fine è stato disposto il ricovero in ospedale di tutti e tre, una ad Assisi e gli altri due a Santa Maria di Perugia. Sono in corso adesso ulteriori accertamenti per fare luce su questa vicenda. Intanto la Polizia di Stato della sezione di Narni ha deciso di prestare la massima attenzione per scoraggiare eccessi, specialmente da parte dei giovani, che potrebbero degenerare in situazioni spiacevoli e pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica in concomitanza della festa di questi giorni a Narni. Per questo la squadra amministrativa ha controllato esercizi pubblici e taverne del centro storico e in un'occasione è stato sanzionato un barista per aver somministrato un amaro a un diciassettenne. L'uomo è stato multato per 333 euro, mentre il ragazzo è stato affidato ai genitori. I controlli, assicurano dalla questura, saranno ripetuti. E per fortuna sono state tutte dimesse le persone coinvolte nell'incidente stradale lungo la Flaminia avvenuto lo scorso lunedì. Sono tutti fuori pericolo nonostante il grande spavento susseguente a una clamorosa carambola tra auto e servizio. Il grave incidente che si è verificato mercoledì sulla Flaminia ternana a Narni ha avuto conseguenze che si sono concluse con un grande spavento. Dopo 48 ore, tutti gli automobilisti coinvolti sono stati dimessi e hanno potuto tornare a casa, compresi i due minorenni per cui c'era più apprensione. I due viaggiavano a bordo della Lancia Musa che si è ribaltata andando a colpire altre due auto. Una dei due, una ragazzina di 15 anni, era stata trasportata con l'elisoccorso Nibbio a Perugia dove le sono state riscontrate fratture su cinque vertebre, perciò dovrà portare il busto. L'altro minorenne coinvolto di 11 anni ha invece riportato una ferita al braccio e una alla testa, ma per fortuna anche nel suo caso non si tratta di nulla di grave. La donna alla guida della Fiat Panda invece ha riportato una ferita sotto al mento, ma dopo 24 ore di osservazione a Santa Maria di Terni è stata dimessa. Continuiamo a parlare di problemi alla viabilità perché questa mattina all'alba, nel tratto della superstrada per Orte nei pressi di Maratta, un capriolo ha attraversato la strada causando due diversi incidenti nelle due carreggiate di scorrimento. Il tamponamento tra due auto ha comportato il ferimento di un passeggero, mentre nell'altra carreggiata l'animale veniva investito da un'altra auto. Per fortuna alla fine niente di grave per i soggetti coinvolti, compreso l'animale che, benché ferito, è riuscito a fuggire nei boschi circostanti. No agli antiabortisti in piazza. A Foligno il coordinamento Donne Arci Subasio protesterà contro la presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori durante il flash mob intitolato Libere di Scegliere, che si terrà domani alle 11 in Corso Cavour. Il comunicato del coordinamento. Il governo, invece di impiegare i fondi del PNRR per migliorare l'assistenza sanitaria, potenziare i consultori e la rete degli asili nido, apre le porte dei consultori pubblici alle associazioni antiabortiste e ai movimenti antiscelta, con la chiara intenzione di colpevolizzare le donne mediante un approccio ipergiudicante e senza fondamenti scientifici. È inaccettabile. L'autonomia della donna è una conquista fondamentale da cui non intendiamo arretrare. Queste le parole di Donne Arci Subasio. Corso di laurea in ottica e optometria di Università di Perugia Polo di Terni, in collaborazione con l'Istituto Casagrande Cesi, ha organizzato un convegno per il prossimo 15 maggio per parlare di problematiche legate alla vista. Ecco l'approfondimento. Il 15 maggio presso la BCT si terrà un convegno intitolato Facciamo luce sulla vista. L'evento prevederà uno screening della vista gratuito per tutti i partecipanti a partire dalle 15, dopodiché dalle 17 inizierà una tavola rotonda concertata da Massimiliano Trevisan, divulgatore scientifico, e che vedrà la partecipazione di diversi aspetti del settore. Facciamo luce sulla vista è un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza che ha l'obiettivo proprio di divulgare la cultura della salute della vista e dell'occhio. Il cambio di abitudini, di stili di vita in cui tutti quanti siamo immersi ha avuto e sta avendo delle importanti conseguenze. Non sempre siamo consapevoli di quello che capita appunto alla nostra vista. Allora questo incontro sarà proprio un'occasione per scoprire proprio in dettaglio tutto ciò che riguarda questo grande cambiamento che riguarda la vista. Qui avremo i contributi dei maggiori esperti ottici, optometristi, ortottisti, oculisti che operano anche nel territorio ternano e che in sinergia si trovano a fare oltre che formazione ed alta formazione come facciamo in università anche informazione. Le tematiche anche della vista al giorno d'oggi devono essere molto attenzionate in quanto tutti facciamo uso di mezzi elettronici, forse un abuso, e molto spesso ci trascuriamo. Quindi è bene riportare l'attenzione su quello che è la prevenzione visiva e anche e soprattutto dei bambini. Non sono ancora iniziati i lavori per il recupero dell'area dell'ex mercato coperto in centro a Terni a causa della complessità della procedura burocratica necessaria all'avvio del progetto di riqualificazione. Adesso però il Comune ha indetto una conferenza dei servizi decisoria. La cosa non sveltisce la procedura ma si tratta di una tappa obbligata per l'amministrazione. Facciamo il punto. Il mercato coperto in pieno centro a Terni è una di quelle aree della città che non tutti i ternani vedono allo stesso modo. Per i più anziani c'è il ricordo della confusione, degli odori forti, delle gride e di tutte quelle procedure da altri tempi collegate all'esperienza del vero mercato di piazza con contadini che sfoggiano verdure e animali urlando per invogliare all'acquisto. Ma quanto tempo è passato da quando questa scena non si ripete più? Abbastanza da far sì che le nuove generazioni nemmeno possano averne memoria. Tanto è il tempo in cui quest'area è stata lasciata in totale abbandono. Sarebbe sbagliato dire che niente si è mosso da allora. Infatti nei primi mesi del 23 era stato raggiunto l'accordo tra Comune e parti interessate per il recupero dell'area che dovrebbe arrivare ad ospitare un centro commerciale. Il mostruoso pacchetto di procedure burocratiche necessarie all'avvio del progetto di recupero però ha fatto sì che ancora nulla sia avvenuto e l'area versi ancora in condizioni di conclamata fatiscenza. C'è però una novità. Finalmente il Comune di Terni ha indetto una conferenza di servizi decisoria che tradotto dal gergo del diritto amministrativo significa che tutte le parti interessate si incontreranno allo scopo di stabilire e possibilmente semplificare tutti i passaggi burocratici necessari all'avvio dei lavori. Significa che si farà presto qualcosa? Non proprio. Ma ciò che è certo è che da qui si deve passare. Se finalmente si vuole provvedere a scuotere una situazione cristallizzata da anni che i ternani abbiano pazienza. È stato siglato un patto di collaborazione tra Lilt Terni e Comitato di Terni della Croce Rossa che permetterà all'Associazione di raggiungere anche i cittadini che non possono recarsi direttamente al centro Lilt per le visite mediche. L'annuncio arriva dal CESVOL annuncio in cui si spiega che la Croce Rossa ha messo a disposizione dei medici un'ambulanza attrezzata per effettuare proprio le stesse visite che si effettuano in ambulatorio. Ha riaperto il bar all'interno del parco di Cardeto. A circa un anno dalla restituzione del parco dopo i lavori di restauro l'area verde tra le più amate e frequentate di Terni torna ad avere anche un bar intorno al quale, tra l'altro, ruoteranno anche una serie di iniziative per far tornare i cittadini a frequentare il parco Galigani. Ecco il servizio nelle immagini, l'inaugurazione. Il parco Galigani, per tutti Cardeto, al centro di Terni torna a essere animato dalla presenza del bar e costellato di iniziative attrattive per far tornare l'area a essere frequentata come un tempo. La riapertura del bar giunge a circa un anno di distanza dalla restituzione del parco alla città dopo una lunga trafila di lavori di restauro. Non ci sono più pavoni e cigni ma in compenso nell'area verranno organizzate una serie di iniziative attrattive come corsi di yoga all'aperto o incontri pubblici sul tema dell'alimentazione sostenibile con la partecipazione tra gli altri di Monica Petronio di Slow Food e della dottoressa esperta di nutrizione Donatella Pitasi. Soddisfazione per il recupero dell'area viene espressa dall'assessore regionale Enrico Melasecche che al tempo del suo incarico in amministrazione comunale avviò la procedura di recupero dell'area. A suo tempo, giunta Latini 2018 ho iniziato io quella procedura che ha portato a cambiare completamente il meccanismo che era ormai bloccato da anni e che impediva di realizzare quanto noi vediamo per cui con grande coraggio perché poi le operazioni vanno fatte con coraggio abbiamo cambiato il gestore il gestore aveva messo fatto ricorso al Presidente della Repubblica ma avevamo ragione e io ho riavviato il processo che ha portato poi al completamento. Devo dire il mio dispiacere che si è concluso due anni dopo come minimo rispetto alla data prevista ma io non ero più qui a Terna ero in Regione per cui purtroppo ci si è messo un po' troppo l'importante è aver conseguito questo risultato. Emozionato e carico per la nuova avventura anche il nuovo gestore del locale Marco Tribulati che sogna per Cardeto un ritorno agli antichi fasti. Finalmente ce l'abbiamo fatta sembrava impossibile ma ci siamo ci siamo riusciti devo ringraziare un po' di persone però diciamo che è stata una bella avventura molti non credevano che saremmo riusciti ad arrivare a tanto abbiamo fatto un bel lavoro sono soddisfatto adesso speriamo che i ternali tornino a frequentare questo posto come è stato per tanti anni Le più belle arie dell'opera lirica reinterpretate a lume di candela succede a Narni ed è un successo di pubblico e consensi per la prima del Candle Concert ecco le immagini La lirica a lume di candela ha emozionato il pubblico del teatro Manini di Narni sul palcoscenico mille candele accese ad attorniare un pianoforte gran coda uniche luci ad illuminare uno dei teatri più belli dell'Umbria un rigoroso silenzio per tutta la durata dello spettacolo ha accompagnato le più belle arie delle più famose opere liriche interpretate dalle voci di Samantha Sapienza e Alessia Menicucci accompagnate rispettivamente dai maestri Nadia Testa e Andrea Francescangeli è andata veramente bene è stata una bella prima il teatro pieno con degli artisti di ottima levatura con Samantha Sapienza e Soprano ovviamente Alessia Menicucci e ovviamente abbiamo avuto due ottimi pianisti ad accompagnarci il format è stato particolare abbiamo provato ad illuminare solo il teatro l'intero teatro di Narni con mille candele e devo dire che l'impressione è stata forte l'emozione forte è stato veramente bello speriamo di poterlo ripregare perché no non solo qui ma anche in altri teatri è stata una bella cosa stancante ma pelle le associazioni organizzatrice tutti per Narni con il supporto di Terni Città Futura e Arco si dichiarano estremamente soddisfatte per il successo di questo evento ora l'ambizione è quella di ripeterlo ogni anno e portarlo in altri teatri umbri e non solo concludiamo così questa edizione del notiziario di AM Terni Television grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti